Sicuramente era una partita difficile, loro sono terzi in classifica, è una squadra forte, una squadra tecnica, una delle squadre che ha il possesso più di palla in tutto il campionato. Sappiamo che dovevamo affrontare una partita difficile, però credo che abbiamo risposto bene, abbiamo fatto una grande partita, abbiamo rischiato anche di uscire con tre punti, è un peccato, però credo che contro queste squadre un punto oggi è stato importante. Credo che eravamo sempre in partita noi, per un piccolo momento abbiamo distratto, quando ti distrai un attimo con queste squadre qua loro ti puniscono, però credo che siamo stati bravi, siamo stati in partita in tutto il momento cercando la vittoria, questo è importante e quando vuoi vincere è difficile che perdi. È contento, è sempre bello tornare, per me è sempre un'emozione unica, sono contento di poter anche aver contribuito perché fare punti oggi era molto importante dopo la sconfitta mercoledì contro il Furosinone, però siamo felici di ritornare in campo e poter aiutare la squadra a conquistare questo punto qua e ora pensiamo già alla prossima.